Cari, ho avuto un'illuminazione. Ci sono certe cose nel mondo che devono cambiare e io voglio impegnare ogni fibra del mio corpo per poterle cambiare. C'è una manifestazione sul controllo delle armi a Times Square e noi dobbiamo unirci ai nostri fratelli e sorelle per combattere insieme a loro. No. Bene, andiamo a pranzo. Non posso, sono occupata. Che stai facendo? Faccio un po' di shopping a distanza per i miei figliastri. Caro, credi che a Mason piacerà? Ha bisogno di un coltello da macellaio? Oh, cara, se tu lo vedessi mentre lavora alla costata di Manzo non mi faresti questa domanda. E come mai vuoi fargli un regalo? Che cosa vuoi dire, Jack? È Natale, sveglia, c'è qualcuno in casa? Tutto lieto, tutto è bello. Karen, il Natale è già passato. Non ti ricordi? Hai permesso a Rosario di chiamare i suoi figli? Sì, insomma, da quant'è che non controlli la tua agenda? Non ho bisogno di un'agenda. Quando finisco le pillole anticoncezionali, torno dal farmacista. Mi sono perso qualcosa? No, non molto. Il nuovo anno, il giorno di Martin Luther King, prendere Stan in ospedale. Oh, ecco dove era finito.